Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 Sono due entità separate, ma sono frutto della medesima creazione. È come se dividessimo una torta in due. Una parte la mangiamo oggi, l'altra domani. Ma la torta è sempre la stessa. E anche questi due episodi non parlano di due film diversi, ma della stessa opera concepita per iniziare e finire. La scelta di separarla in due, con al suo interno più capitoli, oltre a una questione di distribuzione e fruibilità da parte del pubblico, riesce a dare alla pellicola quell'aura leggendaria che alleggia sopra la sua superficie di semplice film di intrattenimento. Guardando al secondo volume, non possiamo fare a meno di fare dei collegamenti con ciò che abbiamo assistito nel primo. Pur essendo due pellicole separate, la sensazione è che si debba per forza guardare prima il primo per riuscire a godere del secondo in maniera completa e soddisfacente. Questo vuol dire che l'esperienza, seppur divisa e fruibile in due tempi, deve seguire comunque il suo originario concepimento ogni volta che la si andrà a rivedere. Kill Bill non sussiste come prequel o sequel. Non reggono come film a sé stanti che si possono guardare singolarmente senza vedere anche l'altro. Nessuno vi vieta di farlo, ovviamente, ma il film è un'esperienza unica che continua nella nostra mente e nel passaggio da un cd all'altro. La pellicola è finita, ma la storia non ancora. Guardando Kill Bill volume 2, ripercorriamo e ricordiamo immediatamente il viaggio della sposa nella prima parte. avendo ben chiaro da dove dobbiamo riprendere e dove eravamo rimasti. La sensazione, passando dal primo volume al secondo, è di ricordarci di qualcosa accaduto molto tempo fa, come se facesse parte di una storia che non avviene nel periodo in cui viene mostrata, ma che ci viene raccontata da chi sta all'interno e che quindi può spezzare, interrompere e narrare quei fatti passando da un punto all'altro, facendo dei collegamenti anche a distanza di anni. E di fatti è proprio Beatrix che in apertura ci riporta la sua storia lasciata in sospeso, parlando direttamente con gli spettatori e riferendosi alle locandine del film precedente che la ritraggono come una furia vendicativa, come se lei fosse consapevole di provenire da quella dimensione lì e di stare raccontando a qualcun altro la storia di se stessa. Questo rende Beatrix un personaggio che si muove liberamente all'interno dello spazio-tempo del cinema e quindi è in grado di mostrarci la storia come vuole lei dal suo reale punto di vista. È lei a interrompere il flusso e farci vedere la storia di Oren mentre sta cercando di rimettere in moto i piedi. Usa il cinema, le immagini, i ricordi di quello che gli è accaduto e ce li mostra anche a noi come se fosse lei a proiettare il suo film e noi fossimo all'interno della sua mente. Come se ci trovassimo all'interno di una storia fantastica senza tempo che riusciamo a percepire più reale di un film che vuole essere per forza realistico. Tarantino ha capito come usare il mezzo cinema e come sfruttare quella sottile linea che separa la finzione dalla realtà andando a manipolare e mettere in discussione la nostra percezione. Dalle interviste rilasciate da Tarantino si evince la volontà del regista di superare l'asticella che ha raggiunto fino a quel punto. Con Kill Bill Tarantino vuole testare le sue capacità e lo fa spostandosi su un genere più dinamico d'azione con combattimenti coreografici e un montaggio molto serrato. Si discosta dal mondo dei film precedenti e va a creare un film nel mondo del film. Così facendo mette ancora una volta le mani avanti facendoci chiaramente capire che non siamo in Pulp Fiction non siamo nelle Iene e non siamo neanche in Jackie Brown. Qui la messa in scena la spettacolarità e l'atmosfera da film colossal è tangibile ed è portata all'estremo proprio per toglierci ogni dubbio sulla simulazione in atto. In un certo senso Tarantino si libera di quella sensazione di costruito e dalla forzatura di sembrare vero. Ci dice senza mezzi termini che non vuole essere realistico vuole fare cinema e nel suo cinema quando sentiamo la finzione non ci stacchiamo dall'esperienza ma ci liberiamo anche noi da quella ricerca ossessiva di realtà ad ogni costo. Mettiamo da parte quel sentore che ci sia una mano che muove tutti i fili. Certo che c'è un burattinaio ma stai tranquillo dice sei in buone mani goditi lo spettacolo. questo ci libera da quel pensiero intrusivo che ci dice che tutto è impostato e non è credibile ciò che sta accadendo perché il genio di Tarantino è proprio questo usare uno stile di racconto e ricostruire il suo mondo in una maniera così realistica che così pare molto vicina alla nostra così da farci pensare che quella roba lì che stiamo guardando sia ambientata nel nostro mondo come lo conosciamo noi ma quando ci mostra qualcosa che va a cozzare con quella nostra percezione cominciamo a storcere il naso affermando ah questo non è realistico non è credibile certo che non lo è Tarantino te lo ha detto fin dall'inizio ce lo sta dicendo da sempre in ogni film il cinema non è qualcosa da prendere alla lettera lo devi sentire è un'arte se vai al cinema aspettandoti di trovare la realtà mi dispiace ma ti stai precludendo del fulcro dell'esperienza che è stata creata proprio per farti entrare in un'altra dimensione è lo stesso principio per il quale certe persone dicono ma cosa guardi a fare il wrestling non sai che è tutto finto? quel tutto finto implica che la persona si aspetti qualcosa di reale per essere interessata e appagata in qualche modo da quella visione e perché un film dovrebbe assomigliare alla realtà che intendi tu quando le sue potenzialità sono tali da poter costruire altri mondi immaginari proiettandoti in altre realtà? il cinema esiste nel nostro mondo ma non appartiene alla nostra realtà fatta come al solito questa lunghissima premessa il secondo volume di Kill Bill si apre con la nostra sposa in bianco e nero che si dirige verso il suo obiettivo finale uccidere Bill capitolo 8 chiamami Arlene prima di vedere il continuo del viaggio della sposa torniamo indietro di 4 anni alla famosa cappella di El Paso Texas dove si consumò l'efferrata strage ormai diventata leggenda vediamo una Beatrix incinta vestita da sposa insieme al suo compagno Tommy concentrata ad ascoltare il reverendo che discute sui vari dettagli della cerimonia ma che al contrario di quanto credevamo non sarebbe dovuta svolgersi quel giorno stesso infatti la voce narrante di Beatrix ci informa che quelle erano solo le prove del matrimonio all'un certo punto stanca delle chiacchiere del pastore Beatrix prende una scusa per uscire e prendere una boccata d'aria ma dirigendosi verso l'uscita comincia a percepire dall'esterno un suono familiare e sul suo volto cominciamo a vedere un mix di paura ed eccitazione come se sapesse benissimo chi ci sia là fuori ad attenderla anche noi lo sappiamo già ma è un momento di estrema tensione e curiosità perché è la prima volta che vediamo il viso del celeberrimo Bill Beatrix non si scompone più di tanto ma è intenzionata a capire per quale motivo il suo ex maestro si trovi lì noi purtroppo sappiamo anche questo ma la cosa interessante è che Tarantino lo sa perfettamente anche lui e quindi usa questo espediente del io so che tu sai non per farci capire cosa succederà questo ce l'hanno già raccontato e non serve mostrarlo nella sua interezza infatti non vedremo mai la strage Tarantino in questo modo sospende la nostra attenzione dal cosa succederà spostando il focus su vediamo come si evolve in questo modo riesce a farci entrare più nello sviluppo degli eventi e a farci catturare tutte quelle emozioni che fuoriescono da quelle scene che si amplificano ulteriormente se li uniamo all'esperienza che abbiamo vissuto nel volume 1 la storia si svela nel tempo e ci rivela nuove sfumature senza le quali non avremmo gli strumenti per comprendere e conoscere a fondo i personaggi ed è per questo che siamo molto più curiosi e presenti in quelle scene perché abbiamo l'occasione di vedere come si è evoluta la storia e il rapporto che intercorre tra Bill e la sua Kido prima che lei volesse ucciderlo infatti notiamo che Beatrix nutre una grande ammirazione per quell'uomo sentiamo tutto il loro trascorso e l'importanza che Bill ha avuto nella sua vita e viceversa nei loro sguardi intensi nel loro modo di comunicare non verbalmente con l'altro notiamo una grande complicità e un forte affiatamento la sintonia di due persone che sanno di aver trascorso insieme delle avventure incredibili e di avere dei ricordi che li legano tutte le emozioni che scorrono in noi e che ci suscitano quelle immagini riescono ad avere l'impatto epico e poetico che hanno anche grazie al contrasto con ciò che sappiamo succederà da lì a poco in quella cappella tutti questi elementi messi in campo strategicamente riescono a creare nel nostro immaginario uno scenario tragicamente poetico oppure masochisticamente romantico come direbbe Bill durante la presenza di Bill la nuova identità di Beatrix si mette in pausa il suo arrivo per lei rappresenta il ritorno ad una vita passata dalla quale è voluta fuggire capiamo che anche i suoi nuovi amici non sono a conoscenza di chi fosse lei prima di averla incontrata ora si fa chiamare Arlene lavora in un negozio di dischi musicali e parla di musica tutto il tempo Bill sembra molto ironico riguardo a questa messa in scena perché di fatti si rende conto che quella messa su dalla sua ex adepta Arlene è una ridicola farsa esattamente come le prove del matrimonio che stanno preparando Beatrix sta cercando di recitare la parte della ragazza normale che cambia città e si lascia tutto alle spalle si convince di essere felice della sua nuova vita da cittadina semplice e ordinaria sposata con un ragazzo semplice facendo un lavoro semplice per mantenersi insomma conducendo una vita serena e tranquilla ma a Bill bastano pochi sguardi per capire che quella storia che si sta raccontando è solo una bugia c'è anche da dire però che fino al suo arrivo sembrava essersi adeguata e aver imparato a vivere come una donna di mondo in un ambiente più tranquillo dove poter crescere la sua bambina lontano dalle pericolose influenze quindi capiamo che Bill ha un'influenza notevole su Beatrix percepiamo l'affetto e la potenza del loro rapporto hanno una storia potente alle spalle e lo leggiamo nei loro occhi nel modo in cui si parlano ma sentiamo anche la volontà di Beatrix di staccarsi dalla sua influenza la sua richiesta amorevole verso Bill di lasciarla andare di togliergli quelle catene e liberarla da ciò che la tiene legata all'idea di essere solo una killer spietata ovvero quel ruolo che gli ha dato e in cui l'ha trasformata Bill per cui sì quella di Beatrix potrà anche essere una messa in scena secondo Bill ma è qualcosa che lei sente di dover fare un sacrificio necessario affinché sua figlia cresca nel mondo e nel luogo più sicuro possibile la gravidanza di Beatrix attiva in lei un istinto materno che supera ogni altro desiderio che le appartiene per fare il bene della sua primogenita capitolo 9 dalle spade samurai alle pistole western tornando al momento presente la storia ci porta nel deserto del Texas dove ora ha dimora il fratello di Bill Bud faceva parte della squadra di Bill ma ora quanto pare sembra essersi ritirato a vita privata e aver appeso le armi al chiodo come Vernita Green abita in una roulotte in mezzo al nulla isolato dal mondo e si mantiene lavorando in uno strip club come butta fuori quindi non sembra passarsela molto bene sappiamo che Bud è un pericoloso killer addestrato ma confinato in quel contesto urbano degradante diventa un semplice uomo come tanti che viene trattato come un pezzente dal suo nuovo boss tutta l'esperienza nel campo in cui ha operato per anni non ha più alcuna rilevanza nell'ambiente in cui si trova ora Bud deve arrivare in orario al lavoro anche se non c'è nessuno nel locale lo vediamo ridotto a pulire dei cessi come un garzone e se non rispetta le direttive rimane a casa senza stipendio il suo dramma è quello di dover sopravvivere in un mondo moderno abbassandosi alle sue regole ben conscio di appartenere ad un altro mondo la condizione in cui troviamo Bud sembra una classica parabola in discesa di un attore hollywoodiano che passa dall'essere il più blasonato delle star nel suo settore all'essere un povero ubriacone caduto in disgrazia che viene umiliato dal suo datore di lavoro Bud potrebbe ridurlo a brandelli se volesse ma non è nella posizione di fare quello che vorrebbe anzi deve sottostare i suoi comandi è completamente impotente e dipendente di fronte ad un mondo senza onore nel rispetto una realtà in cui il codice con cui è cresciuto non vale nulla un mondo dove fai come ti dico oppure sei fuori se guardiamo bene l'ambiente di lavoro in cui Bud fa il butta fuori sembra essere una versione più becera e tossica di quello in cui lavorava prima c'è il capo Larry che gestisce tutti i dipendenti all'interno del locale esattamente come Bill organizzava i lavori per la squadra delle vipere mortali nel primo volume vediamo Bill che tiene di fianco a sé la spada di Ettore Anzo Larry invece nel suo ufficio tiene in bella vista il suo fucile due mondi opposti con le stesse manie ma di diverso calibro un'altra circostanza parallela è il ruolo e il trattamento delle donne nel locale di Larry le donne sono delle lavoratrici che si spogliano si esibiscono prestano il loro corpo a servizio degli uomini che guadagnano e godono delle loro prestazioni vengono oggettificate dai clienti creando un vero e proprio business attorno al loro corpo e sul desiderio dell'altro sesso di possederle una delle ragazze nell'ufficio di Larry se ne sta lì seduta a sniffare cocaina in lingerie come se quella fosse la sua pupilla la sua cagnetta da compagnia che vuole tenersi stretto l'analogia in questo caso con il personaggio di Hell Driver sembra piuttosto marcata Bill una volta persi molti dei membri della sua squadra fa affidamento sull'unica persona rimasta al suo fianco ovvero Hell che gli dimostra fedeltà assoluta e infatti Hell a quel punto sente di essere speciale di essere l'unica e la sola meritevole del suo amore diventa la sua pupilla come ha sempre bramato di essere Bill invece sembra tenersela buona solo perché è l'unica della squadra che non è scappata dopo la strage della cappella da qualsiasi angolo decidiamo di vedere questa dinamica si potrebbe affermare che in un mondo o nell'altro regna una forte egemonia maschile che viene sorretta il più delle volte dalle donne stesse che in maniera consapevole o meno agiscono subordinatamente e in modo remissivo a questa figura predominante che cerca di controllarle e possederle anche se credono di essere libere in realtà sono in balia di ciò che l'uomo vuole che siano incastrate nel ruolo impostoli dagli altri ma tornando al tempo presente vediamo Bill avvertire Bud che Beatrix è sulle sue tracce e quando arriverà sarà lì per ucciderlo Bud sembra piuttosto sereno a riguardo non ha paura e non si tirerà di certo indietro è consapevole di ciò che ha fatto ed è pronto ad affrontarla quella d'amma merita la sua vendetta e noi meritiamo di morire ma la cosa vale anche per lei Beatrix non si fa di certo aspettare e con la sua spada arriva a destinazione pronta ad eliminare il primo dei due fratelli della lista la sposa però non ha fatto i conti con un piccolo particolare non siamo più in Giappone in un film di Kung Fu con le spade samurai ora abbiamo cambiato scenario ora siamo nel vecchio West in Texas e in questo nuovo mondo regnano i fucili le pistole e i mascalzoni Beatrix per la prima volta viene colpita di sorpresa viene resa di nuovo inerme e impotente privata della sua spada per mano di un miserabile che non ha avuto neppure il coraggio di affrontarla con correttezza sotterrata viva con solo una torcia in questo frangente Beatrix è da sola senza via d'uscita e per ritrovare la forza dovrà fare tappa spiritualmente dal maestro che le ha insegnato a cavarsela usando le sue stesse mani mettendo da parte il suo strumento capitolo 10 ok Pai Mei sono pronta il periodo di addestramento da Pai Mei matura i suoi frutti proprio in questa occasione ottenere la forza del maestro tramite la fatica e il sudore per Beatrix significa riappropriarsi della sua identità del suo potere del suo essere della sua indipendenza senza appoggiarsi a qualcuno o qualcosa di esterno lei ha già tutto ciò che le serve e Pai Mei cerca di far uscire quel potenziale latente la spada che le viene donata da Hettori e Anzo è servita per affrontare degli avversari specifici ma ora non può aiutarla può diventare lei stessa lo strumento attraverso i suoi duri addestramenti Pai Mei la umilia e gli ricorda che in quello stato è impotente testa la volontà e la caparbietà di Beatrix per capire se è disposta realmente ad ottenere la sua forza e soprattutto se sarà capace di farla diventare sua senza abusarne così grazie al suo maestro Beatrix trova la forza per sfondare la cassa in cui è stata rinchiusa e rinascere dal terreno riacquista la sua persona e noi veniamo finalmente a conoscenza di Beatrix Kiddo non gli serve più la spada per essere potente è grazie alla sua forza che può usare la spada capisce che è la spada che ha bisogno di lei per essere letale capitolo 11 la miserabile fine di El e Bud mentre Beatrix è impegnata a risorgere dagli abissi della terra alla roulotte di Bud arriva a fargli visita la spietata El Driver con sé ha una valigia piena di soldi che gli serviranno per comprare la spada di Hattori Anzo che Bud ha sottratto alla sposa prima di seppellirla anche qui si può notare bene come il valore simbolico della spada va da scemare diventando nient'altro che un oggetto da vendere in cambio di un ritorno economico Bud ha cambiato il suo sistema di valori la cosa importante per lui non è essere fedele al codice ma solo mantenere l'apparenza di averlo e difendere l'idea che ha di se stesso Abad non frega più che quello sia lo strumento più letale al mondo forgiato dalle mani del suo maestro non è più legato a quella tradizione vive in un mondo diverso ora e quando dice a Bill di aver venduto la sua spada di Ettore Anzo mente perché vuole semplicemente fare un dispetto a suo fratello che gliel'aveva regalata con tanto di dedica incisa sa benissimo il valore che ha quella spada non è così sciocco da svenderla per una cifra irrisoria come 250 dollari ha un valore affettivo per via di chi gliel'ha donata ha un valore di talismano che gli ricorda da dove proviene e anche il suo valore tecnico impeccabile molto probabilmente Bud mente per mostrare a Bill le condizioni disastrose in cui si trova così disperato da svendere l'acciaio più prezioso al mondo per pochi dollari come se volesse ferire Bill e fargli intendere che non vuole avere più niente a che fare con lui ma allo stesso tempo fargli provare un senso di colpa come se fosse Bill responsabile del fatto che è finito a fare quella vita forse vorrebbe tornare con la sua famiglia ma è talmente orgoglioso che non vuole dimostrarsi così arrendevole e disperato da chiedere a Bill di aiutarlo è più un volere che sia lui a pregarlo di tornare questi sentimenti contrastanti e sfaccettati del comportamento di Bud vengono riassunti benissimo dal fatto che da un lato vende la spada di Beatrix per ottenere del denaro per condurre una vita più agiata senza dover essere dipendente sottomesso a datori di lavoro e regole che lo mettono in una scomoda posizione dall'altra però conserva la sua spada per mantenere l'idea che ha di se stesso per ricordarsi di ciò che è stato e a che mondo appartiene veramente secondo lui la spada diventa un modo per rimanere legato alle sue origini e ad un periodo della sua vita che non c'è più i tempi stanno cambiando e la paura di diventare vecchi e miserabili aumenta Bud cerca di adattarsi a un mondo che non corrisponde ai principi che lo guidavano precedentemente ma la domanda è un'altra allora è realmente legato a quella disciplina a quel codice deontologico oppure lo usava solo per interpretare quel personaggio e far parte di quell'universo se così fosse significa che è stato solo uno schiavo di quelle regole che non credeva davvero in ciò che faceva o come era solo un dogma che usava perché è incapace di prendere una decisione e ragionare con la sua testa perché altrimenti se ci tenesse sul serio a quelle regole ora che si trova in un altro territorio se avesse interiorizzato veramente quella filosofia di vita facendo la sua la adotterebbe in ogni circostanza della sua esistenza ma invece capiamo che non è proprio così Bud non riesce ad adattarsi perché è profondamente ancorato alla visione di sé circoscritta nel mondo da cui proviene lì era qualcuno e possedeva un ruolo prestigioso cosa che qui non ha è come se vi dovreste trasferire in una nuova città non conoscendo quella nuova realtà in cui andrete ad abitare all'inizio vi sentirete per forza di cose un po' spaesati l'uscita dalla nostra zona sicura ci porterà a voler ritornare allo stato di agio per cui la convinzione di appartenere ad un posto un lavoro o una persona e di non riuscire a farcela sapendo di dover rinunciare a quella determinata cosa a cui siamo legati complicherà ancor di più il nostro adattamento alla nuova condizione in cui siamo ora soprattutto se ci trasferiamo nella nuova abitazione malvolentieri e con grandi rimpianti una dinamica simile avviene col personaggio di El Driver ci arriviamo tra poco avevamo lasciato El che stava per avvelenare la sposa già in coma profondo ora torna in scena in tutta la sua spavalda sicurezza per consegnare il milione di dollari a Bud per la spada firmata Hattori Anzo sfortunatamente per lui però El ha in serbo una sorpresa a dir poco letale chiamata Black Mamba il serpente col beleno più mortale che esista sulla faccia della terra che gli zumpa in faccia mordendolo ripetutamente fino a farlo accasciare al suolo mentre Bud sta lentamente per spegnersi El gli risponde alla sua domanda dicendogli che il suo rimpianto più grande e che una guerriera di livello così alto come Beatrix sia morta per mano di un povero stronzo anche in questo caso noi sappiamo che Beatrix è ancora viva e sta proprio lì fuori ad attendere il momento giusto per colpire ancora una volta Tarantino ci rende partecipi di ciò che sta succedendo prima che gli stersi personaggi lo vengono a scoprire Beatrix infatti pochi secondi dopo irrompe nella roulotte di Bud e comincia la lotta tra lei ed El Driver le due stanno per avere la resa dei conti ma prima che tutto ciò avvenga El decide di fare una confessione scioccante alla sposa scopriamo che è stato Pai May a strappargli l'occhio che ha bendato perché lei lo aveva insultato chiamandolo vecchio stupido miserabile ma non finì lì confessa Beatrix di aver ucciso quel vecchio stupido miserabile avvelenando il suo cibo ed eccoci qua al punto a cui volevo arrivare riprendendo il discorso di prima abbiamo l'ennesima dimostrazione di come El non sia minimamente interessata a giocare pulito esattamente come Bud non tenta di regolare i conti con Pai May affrontandolo uno contro uno ma decide di utilizzare un metodo vile per ottenere la sua vendetta esattamente come stava per fare con Beatrix all'ospedale se non fosse stato per Bill lei non si sarebbe fatta nessuno scrupolo a farla fuori anzi non vedeva l'ora ha sempre ribadito però di nutrire un grande rispetto verso il Black Mamba come guerriera professionista nonostante la disprezzasse con tutto il suo cuore El è sleale con tutti ma non ha problemi a riconoscere che si merita il suo rispetto ciò che in ultimo le impedisce di rendersi conto dei suoi comportamenti è la mancanza di coerenza e di consapevolezza di sé se Vernita Bud e Oren hanno dimostrato di essere consapevoli di ciò che avevano fatto alla sposa El invece non ha alcun senso di colpa se non quello di averla lasciata in vita è l'unica che non chiede scusa né dimostra alcun segno di redenzione in effetti è perfettamente coerente da questo punto di vista ma lo è con il suo personaggio ed è lì che rimane intrappolata Beatrix sta effettuando un percorso di transizione da ciò che era si sta rendendo conto di quello che potrebbe essere fino ad arrivare al punto in cui il suo ruolo diventa versatile e intercambiabile essendo libera di essere uno nessuno e centomila El invece essendo restia questo cambiamento rimane cieca non riesce a vedere questa opportunità di essere qualcos'altro non vede altro che la sua bolla che la imprigiona nel ruolo attribuitoli da qualcun altro capitolo 12 papponi e puttane ricollegandomi al discorso sui ruoli che occupano gli uomini e le donne in Kill Bill abbiamo visto che quello femminile è quasi sempre subordinato in qualche modo alla figura di rilievo maschile che tratti la donna in modo educato e premuroso o che la tratti con sufficienza e non curanza non cambia il fatto che assume una posizione di dominio e potere mette in ombra la forza latente della donna che si sottomette passivamente all'egemonia maschile rimanendo un essere umano di serie B debole fragile e manipolabile dal retaggio culturale che ha sempre visto l'uomo al centro della storia e rilegando la donna ad un ruolo marginale e di minore importanza ti do l'illusione di essere libera ed emancipata ma in realtà il controllo ce l'ho sempre io l'ultima parola aspetta a me questo è quello che traspare dal modo in cui vengono trattate le donne in Kill Bill già il fatto di doverla trattare o permettergli di è un altro stratagemma per tenerle a bada non hanno più il guinzaglio ma gli hanno messo diciamo il microchip per dire è sempre un modo per limitare trattenere e contenere la loro natura espressiva è come se l'uomo liberando la donna dal suo sguardo avesse paura di perdere qualcosa di sé come se il suo ruolo di uomo e la sua identità si costruisse principalmente sul potere che esercita sul mondo e sugli altri quindi se dovesse accidentalmente perdere quella condizione di supremazia sarebbe completamente perso e si senterebbe una nullità l'idea di se stesso come figura intoccabile crollerebbe come un castello di carte perché la sua identità ruota e si mantiene attorno a quella sicurezza di essere in posizione di controllo cadrà nel caos perché il suo essere uomo è collegato a un modo di comportarsi e di pensare che proviene da un sistema esterno per cui persa quella base sicura quella convinzione di essere onnisciente persa quella convinzione di chi pensavo di essere non sono più nulla identificarsi con l'idea di uomo o di donna che viene da un costrutto sociale già prestabilito causerà inevitabilmente uno smarrimento interiore a lungo andare perché avremo sempre il pensiero di dover raggiungere ossessivamente un modello e assomigliare a quello o a quell'altro senza mai concentrarci su ciò che vorremmo diventare noi un esempio di questo concetto viene esposto quando Beatrix fa visita a una delle figure paterne di Bill il pappone Esteban Viejo Esteban è un uomo anziano gestisce il suo bordello ad Acuna circondato da ragazze che lavorano sotto la sua protezione e come ci fa notare Beatrix è un affascinante gentiluomo non è uno squallido marpione è un individuo dalle buone maniere non facciamo molta fatica a notare parecchie caratteristiche in comune con il suo figlioccio Bill paiono molto simili a livello caratteriale il che dimostra la grande influenza di Esteban nell'educazione e nella disciplina che adotta Bill il parallelo tra Esteban il pappone e Bill il maestro il boss e il padre spirituale non è poi così lontano Bill gestisce una squadra ponendosi a capo come figura che manovra il potere stessa cosa fa Esteban con le sue ragazze ma soprattutto i due cercano di possedere e farsi venerare dalle proprie donne come se si sentissero in dovere di ricevere ammirazione ed essere riconosciuti in eterno come i loro benefattori io ti ho cresciuto ti ho salvato ti ho dato un ruolo e quindi mi appartieni devi essere grata di avermi nella tua vita e di far parte della mia famiglia questa mentalità viene perfettamente espressa nella scena dove Esteban rimane immediatamente folgorato dal fascino di Beatrix la sua prima mossa è cercare di sedurla da grande playboy qual è purtroppo però quell'approccio questo non funziona più come è successo in passato con Bill perché Beatrix non è più una donna come la vede Esteban è qualcos'altro che lo sguardo di Esteban non può neanche immaginare dice a Beatrix che se si fossero incontrati quando era ancora nel fiore degli anni sarebbe diventata sicuramente la sua number one lady la sua donna di punta Esteban dà già per scontato che lei avrebbe voluto far parte del suo bordello riesce a vedere davanti a sé solo una donna da acquistare e mettere nella sua collezione non un essere umano al suo pari ma come potrebbe utilizzarla un oggetto che è lì per contorno alla merce dei suoi desideri questo non significa che la tratti male ma che alla fine gira tutto intorno a lui e che la volontà della donna non viene minimamente considerata solo che Beatrix ora non è più un contenitore vuoto ora decide lei cosa essere e non è influenzata da come gli altri la dipingono capitolo 13 aka mamma Beatrix arriva finalmente alla dimora di Bill questa volta non solo con la sua spada legata dietro la schiena ma anche con una pistola in mano la sposa però verrà comunque colta di sorpresa quando scoprirà che sua figlia che credeva morta è invece lì davanti ai suoi occhi la donna non può far altro che pietrificarsi davanti a quella scena è davvero potente il fatto che Bibi riconosca la madre non appena la vede e la tratti come se fosse sempre esistita nei suoi quattro anni di vita questo ci fa capire che Bill ha continuato a costruire nell'immaginario della bimba la figura della madre che non aveva mai visto Bibi infatti ha sempre avuto l'idea della sua mamma come quella di un'entità astratta e mitizzata attraverso i racconti del padre come se fosse l'eroina di un film quando avviene il primo incontro fra di loro la sensazione è proprio quella di pura emozione e di ammirazione di Bibi nei confronti della madre che finalmente si materializza in carne ed ossa nel mezzo di una scenetta la bimba fa finta di sparare a Beatrix con la sua pistola giocattolo in qualche modo nella finzione del gioco di ruoli Bibi uccide l'ideale della madre per riportarla ad una dimensione più umana e realistica così da poter avere un reale contatto con lei il primo da quando è nata il nome che Bill decide di dare alla figlia è molto particolare non è assolutamente un nome comune sembrano quasi solo delle iniziali ed è curioso ma non casuale che possano essere proprio le iniziali dei suoi genitori Beatrix e Bill Bibi ma se vogliamo andare un po' più a fondo conoscendo quel burattinaio di Tarantino Bibi potrebbe rappresentare per Bill la nuova Beatrix Baby Beatrix ovvero la letterale traduzione del suo intero nome e cognome Beatrix Kiddo ovvero Beatrix Bambina e forse è proprio questo che spaventa la sposa che la bimba diventi la nuova Kiddo di Bill che Bill cresca Bibi facendola diventare come lei come vediamo infatti sembrerebbe già indirizzarla verso quel mondo criminale attraverso il gioco di uccidere cominciando a instillare nella bimba un concetto terribile come l'omicidio con una rappresentazione una recita di quell'atto ora che la sua bambina è lì di fronte a lei lo shock è talmente spiazzante che tutte le sue difese si abbassano e ci rendiamo conto di quanto Bill sia stato un abile stratega a organizzare tutta questa messa in scena per farla arrivare fino a quel punto Bill non ha ucciso la loro bambina ma il suo dolore tutto quel sangue le persone che ha ucciso durante il percorso la paura di non riuscire a sopravvivere la frustrazione e il conflitto interiore tutto questo è stato vissuto da Beatrix come una vera e propria discesa all'inferno la vendetta ora è passata allo stadio successivo la missione ora non è più solo uccidere Bill per ciò che gli ha fatto ma proteggere la sua Bibi da un destino segnato per spezzare il ciclo di manipolazione e controllo di Bill per liberare se stessa dall'influenza che Bill continuerà ad avere su di lei e in ultimo diventa un modo per mettere fine alla sofferenza di Bill per proteggerlo da se stesso e dalla sua natura da Snake Charmer da assassino manipolatore capitolo 14 superman verità e testa di gravidanza e testa di gravidanza e testa di gravidanza e testa di gravidanza prima che questa storia di sanguinosa vendetta raggiunga il suo climax ci sono alcune cose da chiarire Bill vuole delle risposte e per ottenerle in modo sincero da Beatrix sarà costretto a sparargli nella gamba un dardo con all'interno un siero che costringe la sposa a dire la verità una sorta di criptonite per lei visto che non ammetterebbe mai di confessare certe cose né a lui benché meno a se stessa e da qui parte il monologo di Bill sulla mitologia del supereroe e della doppia identità che racchiude l'elemento fondamentale della filosofia dei supereroi è che abbiamo un supereroe e il suo alter ego Batman è di fatto Bruce Wayne l'uomo ragno è di fatto Peter Parker quando quel personaggio si sveglia al mattino è Peter Parker deve mettersi un costume per diventare l'uomo ragno ed è questa caratteristica che fa di Superman l'unico nel suo genere Superman non diventa Superman Superman è nato Superman il suo alter ego è Clark Kent quello che indossa come Kent gli occhiali l'abito da lavoro quello è il suo costume è il costume che Superman indossa per mimetizzarsi tra noi Clark Kent è il modo in cui Superman ci vede e quali sono le caratteristiche di Clark Kent è debole non crede in se stesso ed è un vigliacco Clark Kent rappresenta la critica di Superman alla razza umana più o meno come Beatrix Kiddo è la moglie di Tommy Plimpton Bill con questa disamina del personaggio di Superman sta dicendo a Beatrix che per quanto lei provi a essere e comportarsi in modo diverso rimarrà sempre ciò che è ovvero un'assassina una natural born killer che trae piacere dal male che affligge alle sue vittime in questa prospettiva Beatrix scappando da Bill aveva intenzione di andare contro la sua natura primordiale provando a cambiare vita e fingersi qualcun altro per coprire le tracce della vecchia sé e per vivere un'esistenza lontana dalla violenza tutto ciò per salvaguardare la crescita della sua piccola creatura che sarebbe venuta al mondo grazie al siero della verità Beatrix però ammette che la vita che stava conducendo non la rendeva soddisfatta ma si sarebbe comunque sacrificata a vivere in quel contesto per amore della figlia Bud o Ren ed Elle invece essendo prigionieri del loro ruolo non saprebbero essere qualcos'altro e accontentarsi di fare una vita normale al di fuori del mondo di Bill non sono nulla senza il loro vestito da supereroe senza l'appartenenza alla Deadly Vipers Assassination Squad e la reputazione che ne deriva Beatrix non indossa nessun vestito da killer come dice Bill lei quando si sveglia è Superman è Beatrix Kido è Black Mamba un assassino professionista sono Arlene e la sposa il suo costume sono quegli gli alter ego con cui si veste per vivere nel mondo reale costruirsi un'altra identità sembra l'unico modo che ha per liberarsi dall'incantesimo di Bill che l'ha creata in quel modo in un mondo dove sembra destinata a essere semplicemente una killer e rimanere nel limbo tra il piacere che trae da ciò che fa e il senso di colpa che prova grazie alla spinta che gli darà lo scoprire di essere incinta Beatrix trova la forza e l'opportunità di liberarsi dal suo passato e cambiare il suo ruolo perché ora è abbastanza consapevole da poter scegliere chi essere al contrario di ciò che pensa Bill potremmo anche pensare che a questo punto la frase iniziale di Bill che apre questa epopea fosse una vera e propria profezia il masochismo di cui parla è la sua consapevolezza di ciò che succederà da lì in avanti sa che Beatrix non morirà anzi lui vuole che ricordi ciò che gli hanno fatto ma non gode per le pene che gli ha inflitto ne soffre anche lui perché sta punendo una persona che ama quindi la vendetta il sangue il piacere e la rabbia di Beatrix sono una conseguenza che Bill aveva previsto sin dal principio proprio perché conosce la sua kiddo meglio di se stessa essendo stato lui a crearla e se consideriamo che Bill uguale Tarantino tutto ci sembra molto più chiaro Bill voleva dimostrare a noi e a Beatrix che per ottenere la sua vendetta sarebbe stata disposta a uccidere chiunque gli avesse fatto quel gravissimo torto e quindi confermare la sua tesi ovvero che lei è quello che è è una killer di natura e non importa quanti nomi cambierà come si presenterà davanti agli altri o se deciderà di cambiare vita la sua vera natura prima o poi verrà fuori e che lo voglio meno dovrà conviverci reprimerla o lasciarla uscire Bill credeva che tutta la furia che ha sprigionato e la voglia di vendetta che l'ha spinta ad arrivare fino a quel punto alla fine le avrebbe fatto ricordare quale fosse il mondo a cui apparteneva e chi era veramente facendo in modo che ritornasse al suo fianco dove è naturale che stia credeva di poter tenere sotto controllo la sua creatura perché aveva paura che potesse cominciare a camminare con le sue gambe e tentare di scappare come di fatto è successo quindi tramite la sua influenza ha provato a riportarla a casa ma non ha capito che il viaggio di Beatrix e il trauma che ha subito per mano sua gli ha permesso di risvegliare quella parte dormiente di sé Beatrix ora non deve solo uccidere Bill per redimersi deve liberarsi del controllo che ha su di lei quella figura paterna intoccabile la furia vendicativa fine a sé stessa che si scaglia contro le persone che gli hanno causato del male è una soluzione temporanea che le avrebbe dato solo una giustizia effimera e insoddisfacente il viaggio della sposa non è questo almeno non solo diventa una battaglia per riappropriarsi della propria individualità della sua identità che fino a un certo punto rimane un mistero per noi e per lei stessa è come se durante la narrazione ripercorressimo la sua storia e insieme a lei diventassimo sempre più consapevoli di chi sia la sposa e cosa dovrà fare per riottenere il suo nome Beatrix per essere davvero libera deve staccarsi dal mondo di Kill Bill perché è quel mondo in cui Bill l'ha rinchiusa che non le permette di avere quella compassione e pietà di cui parlava all'inizio è un percorso che la porta a trasformarsi in una creatura dalle molteplici identità da Beatrix passando per Arlene la sposa Black Mamba e infine la mamma di Bibi Beatrix rimarrà sempre Superman una killer ha ragione Bill ma lei non si identifica più nel suo ruolo sceglie di poter essere anche una donna una mamma sceglie di liberarsi dall'etichette e dal volere che li impongono gli altri Bill sa perfettamente che quando Beatrix si presenterà a casa sua lui sarà il prossimo a essere depennato dalla lista a questo punto Beatrix potrebbe anche risparmiarlo visto che sua figlia è viva ma il conto in sospeso è molto più grande ora va oltre il massacro subito è una questione di dignità per riscattare la propria persona per aver tradito il suo amore in quel modo Beatrix è stata ferita dalla persona che più amava la sua vendetta quindi diventa un atto d'amore verso se stessa uccide il suo vecchio amore per amore della sua piccola Bibi uccidere diventa un atto d'amore necessario completata la sua vendetta ricongiuntasi con il suo cucciolo nella giungla ottiene la pace che merita dopo la guerra che ha passato trasformando quella furia vendicativa in un pianto liberatorio ed euforico dove finalmente può lasciarsi andare ed esprimere tutto ciò che prova senza dover recitare piange sincere lacrime di gioia per essere riuscita a ristabilire l'equilibrio perso dopo mille ostacoli dopo tutta quella violenza è uscita dalla sua prigione e ora in un mix di lacrime e sorrisi esprime la sua gratitudine verso chi gli ha permesso di arrivare a quella liberazione finale ovvero Bill attraverso le difficoltà a cui lui l'ha sottoposta Beatrix è cresciuta è diventata sovrana di se stessa ha sciolto le catene che la tenevano legata ad un mondo che per forza di cose doveva trascendere e oltrepassare raggiunge così la risoluzione del suo trauma che attraverso tutti gli avvenimenti che gli sono successi è riuscita a sbloccare arrivando a capire che solo aprendo quella ferita lasciando che tutto il sangue venisse fuori che poteva ritrovare contatto con la Beatrix originale Bill aveva ragione Beatrix è Superman un giudice per tutti noi umani che vorremmo raggiungere la sua grandezza forse Beatrix e Tarantino ci stanno dicendo che potremmo raggiungere anche noi quello stato di beatitudine ma che invece preferiamo trasformarci in Clark Kent il costume che Superman si mette per confondersi tra noi poveri esseri insicuri eternamente prigionieri di noi stessi e delle nostre convinzioni Beatrix quindi diventa il cinema che critica e si ribella alla natura debole e meschina della razza umana si conclude qui la storia della sposa con Beatrix e Bibi che guardano assieme a noi i momenti salienti della storia che si è appena conclusa la scena dei crediti finali con in sottofondo la canzone Malaguegna sale rossa è la perfetta dimostrazione dell'amore che Tarantino ha per il cinema ci fa ripercorrere tutto il viaggio mettendo in risalto uno per uno tutti i vari personaggi che abbiamo incontrato lungo la storia riviviamo per un momento tutte le sensazioni provate durante il film concentrate in un montaggio riassuntivo un gargantuesco omaggio di Tarantino verso tutti gli attori una lettera d'amore che valorizza ogni creatura da lui partorita Tarantino usa il cinema per rivivere lui stesso ciò che è stata l'esperienza lavorativa sul set e permette a tutti noi di riviverla come se fosse stata veramente parte della nostra vita fissandola in noi come un vero e proprio ricordo è come se fossimo stati ad un matrimonio avessimo visto lo scambio degli anelli il bacio la cerimonia il banchetto il lancio del bouquet il taglio della torta e i balli di gruppo e finita la festa tornati a casa ci ricordassimo di quella fantastica esperienza tramite le istantanee che abbiamo in testa mesi dopo esce il video del matrimonio e ci mettiamo tutti insieme a guardarlo rivivendo quei momenti attraverso delle immagini di ciò che è stato le immagini sullo schermo ci andranno a creare un altro tipo di esperienza ricostruiscono qualcosa che rievoca e genera delle emozioni che non potremmo provare in nessun altro modo la rappresentazione diventa quasi più forte ed evocativa di quello che abbiamo sperimentato in prima persona come se riuscissimo a cogliere appieno la grandiosità e la magia di quei momenti passati solo attraverso i ricordi le immagini attraverso il film di ciò che abbiamo vissuto a Grazie a tutti. Grazie a tutti.